ciao a tutti sono leonora vi do il benvenuto nella mia cucina oggi andremo a preparare un semi freddo al mascarpone me e menta venite con me che lo prepariamo in una ciotola versiamo il mascarpone la panna il latte condensato la menta adesso montiamo il tutto con delle fruste una volta che abbiamo ben montato il tutto sbricioliamo dentro degli amaretti grossolanamente e mescoliamo il tutto adesso versiamo il composto dentro degli stampini oppure potete usare anche dei bisogni adesso con una spatolina livelliamo il tutto quando avete livellato tutto per bene mettete in congelatore per almeno quattro ore naturalmente tutte le dosi di questo facile dolce li trovate in descrizione ho ripreso lo stampino con i nostri il nostro semifreddo è pronto adesso prendiamo un piatto da portarla è andiamo mi hanno mi hanno mi hanno mi调 mi Grazie a tutti.